a questa live, so che alle 9 c'è Gameplay Channel Ital Mirko, giusto? Spero e adesso ho detto voglio farmi una partitina a COD ed eccomi qua insomma non perdiamo tempo, non voglio assolutamente perdere tempo ma devo assolutamente leggere i vostri messaggi perchè la mia live durerà 40 minuti ma dopo ce ne sarà un'altra di Gameplay Channel Ital anzi, Gameplay Channel Ital se nel caso tu stia guardando facciamola insieme, giochiamo a COD non so se tu abbia COD non lo so, però io penso che questa sera la passo attaccata a COD ma proprio alla stragrande dovrei essere tutto a posto, no? tutto a posto ok, perfetto bene ecco qua, mi da live perfetto, ci ho messo un po' eh, per andare live però insomma meglio così perfetto ci ho messo un po' eh, per andare live devo spegnere assolutamente bellissimamente la cosa qui altrimenti oh, allora mettiamo eccoci qua cattura gioco cattura dove è? salve a tutti bellissimi vediamo vedete il gioco? secondo me non c'è una sega cattura gioco sei sicuro che di voi toglie cattura gioco? tra le altre cose io sono l'unico a non aver impostato il PNG perché ho detto vabbè, vabbè, faccio mezz'ora però vabbè vi presento sono Reddits di questi sul server il canale è anche mio è di tutti ma anche mio cattura qualsiasi cosa a schermo intero c'è una sega giustamente vediamo un attimino vediamo sono molto curioso gli faccio una pre-live a a Mirko spero che si chiami così ok è partito grandissimo e voglio assolutamente fare un tutti contro tutti cercherò di leggervi ma sarà molto difficile quindi insomma non lo abbiate ho il telefono davanti ma oh freddissimo sono freddissimissimo freddissimo Arthur I'm Techflame non 3 sono le derezze ma la categoria è Bloodborne merda hai ragione sette 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 ecco qua no me l'ha staccato sto bastardo ok dovrebbe essere scusate per la categoria e adesso fatemi yoga fatemi yoga che dopo me ne devo andare sparare a vista devo alzare il volume e devo ok no la sensibilità è giusta allora se butto una cosa là quasi sicuramente ah ma guarda che camper di merda guarda siamo malissimo ma voi vi rendete conto che figlio di di una buona Baldraca ok mannaggia sangrispino allora la cosa di Twitch sta andando molto bene guarda figlio di Baldraca sta andando talmente tanto bene che abbiamo deciso di di mettere anche nuovi mod e tutto il resto all I want for Christmas is a kill guarda se sta quel bastardo da ste parti sono freddissimo tra le altre cose sta per scoppiare una bomba dov'è 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 cucù 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 lasciatemi perdere lasciatemi perdere da qui su ooooi ooi 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 chi è quello dov'è dov'è mannaggia ok apriti non la voglio questa voglio la mia dov'è era l'ho sentito ha puntato qualcuno non te pareva mi fate recuperare ma perché non posso recuperare munizioni guarda quello guarda possibile che non c'è nessuno nessuno che passi bravo nicola fatti male l'ho sentito ma guarda come sta balordo ciao ciao buonasera buonasera a tutti non voglio morire si apre la porta apritemi una porta dove sto ma dov'è l'ho visto passare merda ce l'ho addosso dov'è ah ma adesso dove è arrivato sto andando malino ma vabbè è il primissimo gameplay mi faccio guarda sto bastardo guarda regicida è normale che sei regicida se stai bloccato in un angolino a sparare a sparare gente chi è no ma non sai sparare manco per il cazzo cazzo ce n'è un altro dov'è 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 sei ma guarda che pezzo di merda guarda comunque l'avete visti quanti sono camper no 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 dove cazzo guarda che camper di merda sono primo ma si camper di cazzo ma questo è un camper di merda è sempre lui no la bomba no 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 ok dov'è dov'è dove sei possibile che non ci sei tu prendi questo io la volevo lanciare in faccia non ce l'ho fatta no dove ah dove cazzo sei no ma come ma non dovevo essere flashato merda mori porca troia pensavo di avertelo messo in fatto in faccia sto pezzo di merda senza dio vado su possibile che non viene un no come sono morto e dai dovevi morire già prima dovevi morire oh ma che non muori cazzo dove dove ma guarda ma ma dovevi sei volte dovevi morire sei non una sei dio madonna poi non mi cazzo vaffanculo mi è andato in mezzo pure il guarda non sono neanche più primo ma muori sei capace neanche di sparare ma come meno di un minuto no dai sono andato in faccia niente volevo farmi una sparacchiata e ci sto riuscendo no ma sono lento come la merda lenta no vabbè terzo no dai terzo no bravo nicola orca puttana guarda che cazzo di camperlammer dove stai possibile che non biglio nessuno dove 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 porca troia lo sapevo che era il mio guarda guarda la eh 13 vabbè il primo ha due morti in più di me è andata male ma no in realtà non è che più ti incassi e più e più muori anzi posso posso tranquillamente dirvi che che non è così io più mi incazzo più faccio danni questo ancora lo sblocco ho comp ho comprato dicevo ho sentito una botta tremenda mi sono spiaggiato su death stranding no 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 dobbiamo fare il video sono molto vicini molto vicini ho quasi sbloccato tutto manca questo a livello 51 e questo a livello 48 55 sono curioso di provarlo questo ma 15 uccisioni devo fare ma c'è l'uccisione tra le altre cose quello che stavo utilizzando era un fucile epico finito male ma ce n'ho un altro di progettino carino che è questo e è molto divertente che lo c'ho mille punti darksiders quale poi c'ho questo coltello che non ho mai provato c'è il purista pure zio ciao ciao ah genesis no non l'ho provato ancora allora proviamo con la UG da fantasma che questo è da un po' che non lo uso la UG è una delle mie armi preferite e devo dirvi la verità è una di quelle armi che preferisco qualcuno ah è perché e poi c'è il tracciante che è tanta roba perca di quella puttana dai l'ho sbagliata male questa potevo fa ma che se non sai sparare non sparare cioè quella l'idea cazzo ho finito i colpi grazie mi serviva un'arma scusate ragazzi l'ho dovuto fare perché no dai cazzo devo andare a recuperare il pacco che mi dava una serie di uccisioni ma prima aspetta no non potevo schiattare male a sto livello mori no madonna che palle però ma sarà a chi è che mi sta sparando maschiata bastardo no ma ma quindi l'ho perso il pacco porca merda non mi era mai successo di perderlo pronti nessuno è qui la festa è qui la festa scusate posso andare a vedere se il mio pacco c'è ancora da qualche parte che cazzo è sto roba no affanculo no il cyber track il cyber track oh l'ho visto ma che è hai fatto una camminatona hai fatto ciao amico come andiamo dai 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 ops ok ok merda no 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 porca troia vabbè che vi sto unando malissimo però porca troia eh dai ma che è ma che cazzo c'aveva davanti via voglio il mio pacco vado a prendere il mio pacco dai eccolo guardalo quello dove sta ok ok no 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 perché non mi ha sparato che cazzo gli ho fatto bastardo guarda questi cazzo di camper volete camminare camperanti l'ho visto mi sembra di averlo visto porca caccia la puttana dove 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 aspetta ce n'è un altro alle spalle sentito no cazzo l'avevo sentito tale quale guarda mammi da puntata si che lo so che sono in testa è perché sono nubi forti questi mica perché sono bravo io ue 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 che cazzo di nubo devo provare sto bombardamento te ti sento ti sento lo sento no porca di quella puttana guarda vabbè ma sei imbecille però eh vai proviamo il bombardamento lì papapapapam non ho fatto secco niente non passa nessuno proprio lì oh dalla distanza zio reddits è ancora bravo come una volta proprio tanto tempo fa ue zio però devi sapere sparare nella vita se no boom madonna che questo me lo son meritato però eh sto facendo una di quelle partite no merda 21 a 12 vi lascio giù no porca merda questo muo mi rimane là sopra questo muo mi rimane là sopra ma mi è andata bene buttiamo sto missile mi è andata mi è andata mi è andata mi è andata no Nicola che cazzo fai Nicola porca troia malefica guarda che ignorantone che sono vaffanculo ma questo non me la meritavo lo vado a prendere se sta ancora qui lo seguo ma lì no dai cazzo Buddha cazzo Buddha dove vai 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 ma guarda che cazzo di bastardo ma io spero che non lo mettano l'1v1 sai vabbè guardalo andiamo a riprendere quello qua dentro no 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 male oh 24 con 24000 kill guarda che se guarda guarda che t'ho visto t'ho visto giuro che la mia vendetta arriverà eh ma io non mi inseguite porca troia no dai un altro che palle volevo uccidere un po' di cipersone l'unico che può uccidere è Redez sei passato da un cruise per ammazzare un cristiano a tirate una granata in faccia da solo e vabbè l'importante è che non ho fatto scena muta insomma Redez quando riesci fatti qualche partita con front escape ma no perché è lungo escape front arco questo è il pacco di cibo migliore che avete detto ma in realtà sono tanti quelli fondamentalmente dove dove non moriamo faccio in un'altra perché poi tocca gameplay e quindi gli lascio un po' di tempo per entrare anzi gameplay Mirko se ci sei batti un colpo cassa di munizioni cosa cosa usate voi il drone amp o infiltrazione tattina possiamo riparo mobile colpi ah questo colpi col potere d'arresto sono belli o il silenzio di tomba fatemi sapere che cosa usate voi questo è il lancio di armi silenzio di tomba come mai silenzio di tomba in due passi movimenti leggermente accelerati uccisioni con armi corpo a corpo e coltelli di lancia rimpostano la durata ma come il battere si è bruciato la PS4 è bello cioè a me piace un sacco questo code ma proprio tanto tanto vediamo se riusciamo a fare un buon oh questa non la conosco San Pietroburgo è nuova perché c'è riproviamo col fantasma un fantasmino allora ragazzi questa è nuova per me questa proprio non la mi sa che non l'ho mai vista non l'ho mai giocata possibile ho sete ho quattro secondi e bevo dopo ah no 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 non la non la conosco benissimo ah gli volevo andare addosso non la conosco benissimo però si l'ho giocata quella dei treni mi ha fatto partire una parte strana prendi questo ma guarda guarda fuochi che non le posso di certe parole e muori no non ci credo mi ha piaciuto quella ma la cosa ma mi ha fatto ripetere inizia qua ehi tu lo sai che mi avevi ucciso prima stronzo per sbaglio mi ha ammazzato non sei capace di uccidere no male bravo lui ha stato bravo comunque quando le mappe non le conosci bene è un macella va ah una jazza ti è piaciuto mi stai sparando mi stai sparando dove stai bomba in faccia proprio giuda quando entri e sbagli buco volevo dire adesso uè t'ho visto stronzo faccio i stellini di natale io che cazzo è il rumore e muori c'è qualcuno ah però non dovevi uccidere me dovevi uccidere l'altro sto sentendo un gran bordello bastardo bastardo no da nico non riesci più a centrarli i buchi no ouch e vabbè ma col fucile a pompa ti piace vincere facile proprio cazzo cazzo devo cambiare equipaggiamento voglio provare con l'epico bravo nicola no madonna mostro troppo abituato col tracciamento porca cazzo tiro una bomba lì dove dove dai butto la granata niente dai ma quella era semplice però non è che ti beh vabbè qua il pompa fa male male no dai non sto uccidendo più nessuno e quelli che mi vedono mi uccidono fanculo da qualcuno esce da lì ce l'ha dov'è 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 dove sei porca miseria mi scappano tutti dov'è cazzo dov'era no nicola ma che cazzo fai mamma ton mo recuperiamo un attimo c'è uno qua sopra mi sa è un attimo radar Do cazzo è? L'ho sentito Fino a mo' l'ho sentito Eccolo Buongiorno Posso usciare? Ma guarda dov'era Dai ah 5 kill devo recuperare Eh dai ero morto Cazzo c'ho 5 minuti Ah 2 minuti della partita Perfetto siamo in perfettissimo orario Da quel balordo Preso Ho fatto un tiro al volo proprio Un piattel volo Cucu Nooo dai col pompone Maledetto Ma che arma è questa? Che arma è? Non è la mia arma Voglio cambiare arma Ah dai col fucile da cecchino Ma proprio blastato Blastato malissimo Vaffanculo va No e no e no Non è che uno arriva Sa faccia e mi spara Ma che sono ste cose? Non si fa Almeno mi chiedi come mi chiamo Perché ho l'AUG Quando io non Avevo messo l'epico No l'ho rimesso l'AUG Ormai Eh guarda guarda Bastardo Ragazzi Io Vi salustro Lascio la palla Se aspettate un attimo Fra 5 minuti dovrebbe entrare gameplay Ita Vero gameplay che non mi sta seguendo Nel caso lui abbandona Eh Rientro io Però non lo so Non penso Ci vediamo Alla Alla prossimissima Spero di avervi intrattenuto poco Poco però Ciao 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 Ciao